Buongiorno a tutti, sono con la mascherina, hanno già ringraziato tutti quanti e hanno fatto pure meglio di me, quindi vi invito, ecco facciamo così, per ringraziare tutti quelli che si sono interessati per questa bella manifestazione, alziamo lo sguardo al cielo e spariamoci un grande bacio, proprio all'ingraziamento di tutti quelli che si stanno interessando nel mondo per la pace. E allora vi volevo dire, avevo preparato poche righe perché mi rendo conto che è stato già detto tante cose, sono state già dette e anche bene da voi, ma volevo vicino a me quel ragazzo che ha presentato, se c'è possibilità da parte tua perché dopo ti devo riflettere, ma non come sindaco, come docente, poi vi spiego perché, poi vi spiego perché. Allora, ecco, avevo detto, avevo ragione perché ho scritto, prova una grande gioia questa mattina, nel vedere tanti giovani impegnati in un appuntamento come questa marcia per la pace, che vuole essere un appello alla sensibilizzazione delle coscienze e alla difesa del valore più sacro che possediamo e al quale dovremmo sempre e comunque ispirarci. E la mia è una gioia doppia, dal momento che da questo palco non mi rivolgo a voi soltanto da sindaco di questa comunità, ma anche da docente e dunque da uomo consapevole che il nostro futuro è affidato solamente a voi. Sono per vocazione e professione al fianco e a contatto con i giovani e capisco cosa possa significare soprattutto per voi trovarsi ad essere spettatori in un'altra funesta pagina della nostra storia. Proprio mentre sembra che stiamo per metterci alle spalle quella pandemia che tanto ci ha allogorato, ecco arrivare una guerra che ci vede costrette a ribadire il nostro diritto alla pace. Non soltanto un diritto, anche una cultura che in Europa abbiamo rivendicato con forza e che abbiamo raggiunto dopo il prezzo davvero caro pagato in passato. Si parla di pace, se ne parla ovunque, tanto che la parola ha perso persino il suo significato intrinseco e diventa una parola vuota o peggio, si usa per indicare persino l'opposto per situazioni di comodo. Per esempio, chi non ha mai sentito dire missione di pace quando vanno a bombardare un territorio e per ricordare il passato ecco una santa inquisizione e la santa crociata che di santo non avevano proprio nulla e allora siamo arrivati anche alle bombe intelligenti. Ogni cosa produce se stessa, se dai amore raccogli amore, se dai odio raccogli odio e se porti un'arma avrai morte e guerra. Far la pace vuol dire solo far la pace ed è il contrario di fare la guerra perché la pace si costruisce solo con la pace e non con le armate. Un grande uomo come Gandhi, quando lo esortavano a combattere con armi, diceva «Ci sono molte cose per cui sono disposto a morire, ma non ce n'è una per cui sarei disposto ad uccidere». La non-violenza non consiste in un docile sottomissione alla volontà di un malvagio ma nel contrapporre la propria anima alla volontà del tiranno. Oggi il messaggio che sta passando è che la non-violenza sia un'ultupria impossibile da realizzare, sbagliato. Infatti l'invito che vi faccio è a coltivare senza paura la conoscenza, lo studio perché niente di male viene dalla conoscenza e dallo studio. I mali maggiori sono l'ignoranza, la stupidità, la presunzione che sono fautrici di razzismi, intolleranze e discriminazione e che appunto portano solo questo. E allora è giusto rivolgersi proprio a voi ragazzi perché è a voi che affidiamo il testimone di un'umanità diversa e di un futuro migliore. Domando vi troviate, qualsiasi cosa vi riservi il domani fatevi sempre portavoce di ideali e valori quale appunto la pace e la giustizia. A miei concittadini ribadisco la necessità di essere vicini a chi in questo momento attraversa un periodo di indicibile difficoltà e dolore ma l'altruismo e la generosità della comunità isolana è sempre messa nel momento del bisogno. È veramente bello vedervi stamattina qui in momenti come questi vi sento più che mai orgoglioso di essere il vostro sindaco. e ricordate bene la conoscenza e lo studio è un grande valore per l'essere umano non un demerito essa può condurre un scaurare una pace duratura. Diceva prima una ragazza ha ricordato una famosa espressione del presidente John Kennedy John Kennedy diceva appunto si deve porre fino alla guerra o la guerra porrà fine all'umanità questo è quello che mi sento di dire riguardo a te stamattina hai sordito dicendo così noi ci proviamo ci ammettiamo tutto vuole essere un piccolo segno non è vero questo segno te lo devi portare stamattina nel tuo cuore lo devi stringere con forza perché stamattina hai ottenuto una grande cosa complimenti